Ogni tanto qualcuno mi dice ma come fai ad aiutare persone che si schiantano con le loro mani, che si fanno male da sole comprando cose assurde, finendo in truffa incredibili, credendo a cose non logiche? Allora la risposta è questa, ci sono due tipi di persone. Ci sono quelle ignoranti, che non sanno nulla e che secondo me sono quelle che devono essere difese a tutti i costi, anche se la prima percezione può sembrare esattamente l'opposto. E poi ci sono quelle che invece vogliono fare un po' le furbette. Allora, quelle che vogliono fare le furbette invece evidentemente si fa fatica a difenderle. Perché? Perché non si fermeranno mai. Io ricevo decine di email al giorno in cui mi si dice, cioè ne ricevo molte di più su tutte le varie segnalazioni, ma una decina che dicono sempre più o meno la stessa cosa. Ti seguo sempre, so che quel mondo lì dei venditori di fufa o delle crypto scam è robaccia, ma volevo chiederti, la super mega rich money fantastic è buona? No, perché un mio amico mi ha detto che guadagna. Allora, quelli lì non sono ignoranti, quelli lì sono più furbetti, perché cercano di guadagnare oltre alla logica ed è esattamente la leva su cui sfruttano i venditori di fufa. Per cui evidentemente se non si vuole rischiare ci sono mille altri modi. Se uno ti dice che ti dà 2000 euro, perché dicevo anche questi email, te li fa diventare 150.000 in una settimana e tu ci caschi, non sei più ignorante. Certo c'è anche una presa di ignoranza, ma sei un furbetto. Quello che invece dice, guarda io ho seguito tutto, ma mi è arrivata una mail, ho cliccato un link per sbaglio, non lo so, sono finito da una parte, ho inserito la carta e mi hanno fregato. Quelli lì invece sono quelli da difendere estremamente, perché non sanno che quel link non era da cliccare, che quella carta non era da inserire, eccetera. Anche se può sembrare più stupido. Ecco questo è il mio, è il modo in cui lavoro, è il modo in cui difendo le persone. Per cui a volte, soprattutto a questi che mi dicono, sì ma mio fratello mi ha detto che guadagna, guarda te lo giuro, ho visto le schermate e lì ci vuole credere. Cioè chi ci vuole credere? Tant'è che come prova o è fatto che ci sono venditori per questa gente. Cioè pensate a quelli che vendevano corsi per diventare ricchi, poi hanno fatto gli NFT e vi hanno venduto le racchettine, le scimmiette e poi adesso diventano esperti di intelligenza artificiale e vi vendono i corsi per farlo. Cioè senza nessun titolo, senza nessun incarico, senza nessuna base. Perché? Perché alla fine si rivolgono sempre a quel pubblico lì, di furbetti, non di ignoranti, di furbetti. Io sto dalla parte degli ignoranti perché gli ignoranti li puoi trasformare in colti, nel senso che puoi spiegare come stanno le cose, questi imparano, i furbetti rimarranno furbetti.